Allora, per venire a Tanaris da Dalaran c'è un modo veloce. Entrate nel palazzo vicino alla locanda. Quale? E' un palazzo dando le spalle all'entrata della locanda, quello a sinistra, se no guardando la locanda alla porta a destra. Quando entrate lì c'è un portale per Stormwind. Appena arrivate a Stormwind, se vi girate alla sinistra ci sono tanti portali, uno è quello per le caverne of time. Io ovviamente non ho capito un cazzo di dove devo andare. Arrivato. Forza si fa sul serio stavolta. Aspetta, io ovviamente non l'avevo ancora preso. Ci siamo, ci sono. Dobbiamo andare su. Ecco qua, c'è Cromi. Cromi! Ciao, Cromi. Ah, è lei, è proprio lei. Cerca le casse di grande effetto e usa l'elevatore Arcano su DS. In questo modo Arta sotterà le prove di cui ha bisogno per avviare il massacro di Stratolm. I flussi temporali devono essere preservati. Ok, dobbiamo, eh certo, dobbiamo usare il tricorder lì, quello che è. Siamo nelle... C'è un tipo che dorme. In quelle che hanno le Plegland, cioè quelle che saranno le Plegland. E la luce ti benedicta. Adesso faccio. Va fuori. Sì. L'hai usato? Sì, uno di cinque. Cerchiamo le altre. Eccole una qua. Ah, l'importante è che sia qualcuno. Attenzione. Sì, sì, l'importante è che qualcuno le faccia. Vediamo se sta casetta ce l'ha. Bella entrare in casa e trovare un qualcosa di squattato sul tavolo. E' una completa? Ho aspettato a parlare. 10 cromis. Oh, sì. Qua siamo davanti. Ci sarà Cinematic di Artas e Wu-Tey e Jaina, quindi. Ho intanto consegno. Accetto. Allora c'è da consegnare, da accettare, ma non parlate. Uh, belli quanti che mi dà. C'è consegnato, sì, ah, accettare, ok. Sì, ho accettato l'altro. Prenditi cura di te là fuori. Eccoli. Oh, arriva un po' di gente. Eccerto. Venite, venite. Eccolo leone e ci andavi bene assieme. Sembri. Ecco qua. Lieto che tu ce l'abbia fatta, Uther. Va dal tuo tono quando mi parli, ragazzo. Sarei anche il principe, ma sono ancora tuo superiore. Ah, ma è ancora buono. Eccetto. Capito, capito proprio tutto. Ma ascolta, Uther, c'è una cosa sulla pestilenza che dovresti sapere. Oh no, siamo arrivati tardi. Queste persone sono tutte infette. Ora sembrano in salute, ma è solo questione di tempo prima che diventino tutti non morti. L'intera città deve essere purificata. Come puoi anche solo pensarlo. Ci deve essere un altro modo. Uther, come tuo futuro re io ti ordino di purificare questa città. Non sei ancora il mio re, ragazzo. E non ti ubbidirei neppure se lo fossi. Me lo ricordo. Allora devo considerarlo un tradimento. Tradimento? Hai perduto il senno, Arthas. Vici. Ser Uther, in virtù del mio diritto di successione e della sovranità della corona, ti sollevo dal comando e sostendo dal servizio i tuoi paladini. Arthas, non puoi. Ma è fatta. Quelli di voi che vogliono salvare questa terra, mi seguono. Tutti gli altri. Voglio più vedervi. Hai compiuto un passo terribile, Arthas. Jaina. Mi spiace, Arthas. Non posso stare a guardare mentre lo fai. Quanti ricordi, Emy? Me la ricordo. Era Warcraft 3 questo. Che si fa adesso? Si segue. Burga. Io entrerò con una piccola forza a Stratolma per cominciare la decimazione. Dobbiamo contenere l'infezione per salvare L'Ordda e Roma. Che bello. Bello. Grande Arthas, sei il mio idolo. Dobbiamo seguirlo. Abbiamo piedi, va. Perché fia? Siamo? Possa la luce e avere pietà. Perché io non mi amo. Siamo pronti. Sembrano tutti pronti. Ricordate, queste persone sono tutte infette e moriranno presto. Dobbiamo purificare Stratolma per proteggere il resto di Lord Aeron dal flagello. Andiamo. E' apra. Potevamo mettere la voce anche a lui, però. Questo era solo l'inizio. Sì, questo è l'inizio. Magani, aiuto! Ti stavo aspettando, giovane principe. Io sono Malganis. Ah. E' fuori dalla mia portata. Arrivano un po' di sisi. Mi serve un bersaglio. Ecco, ma non c'è. Non lo permetterò a Malganis. E' meglio che queste persone muoiano per mano mia. E' troppo lontano. E' un po' di servirti da morte. Malganis manderà alcuni dei suoi servi del flagello per cercare di fermarci. Quelli di voi più forti con l'acciaio e la magia dovranno affrontarli e distruggerli. Io condurrò il resto delle mie forze nella purificazione di Stratolma. Sì, ma... Ma, gli ordini... Ma, ci sono tutte queste merdine qui. Ma, ci sono anche i... i morti di figa qua. fai le pietre del dedo è evocato un tirannoso e mai non ce lo facciamo non era l'istanza migliore per iniziare ebbè alla prossima andare quindi noi uccidiamo quelli forti e lui dietro massacra le donne che scappano capito bisogna andare avanti non possiamo stare così capito bisogna sempre andare avanti finché non escono tutte le ondate la rinnovazione dei montati ah non avevo mica visto come nel gioco come nel gioco non abbiamo capito ok mi sa che non siamo noi a polgai ma sono loro che ci polgano sono fatto del miracolo arrivano arrivano di qua porca troia io attacco come se non ci fosse un domani e mi attacco che da poco non c'è da un domani non potrete farli così perché non è stato ok grazie fabbri possiamo rispettare ok ok no si non è un po' più un po' più vicino no questo ho fatto morto in mezzo alle zumbi la peggio male no da che parte devo andare in son pure perso ma come cazzo fai a peggio scusa no non l'avevo visto dalla porticina scusate non siete qua non siete no 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 stiamo facendo il piaggio per arrivare che si lo tira ma lo dicevate a cromi cromi vi mandava direttamente qua ah ovviamente eh sì beh non lo sapevo allora ci siamo mettete il teschio prima non bisogna far fuori il ravagnone arriva il morto di piga anche te fatemi una mano no è morto di piga adesso ah morto di figa adesso ne stanno arrivando a tutti i due occhio quello intacchiate lasciatelo stare purello eh ma nei coin danni hai il teschio il teschio il teschio il teschio date una mano con questo vai che lo uccidiamo vai ok questo è morto il prossimo ok Ok Datemi una mano, cazzo Bravo, bravo, bella Non posso attaccarlo Non posso attaccare questo bersaglio Com'è andato? Perché? Cosa è successo? Quello Era il boss No, sei curato Sei curato tutto, sto stiamo Lo dovete interrompere È come se si è aggizzato No, stiamo di qua, di qua, di qua Di qua, di qua, c'è il primo boss Di qua Di qua Di qua Non ti vedevo che era a destra Aspettate, fatemi bere Quando vuoi che scende giù la grata Comunque dovrebbe venire Veniva giù il boss Siete? Uno di quelli Quelli lì, che dittemelo che io lo incateno Ma questi sono minchioni È troppo lontano Mi serve un bersaglio È fuori dalla mia portata Belli che li fai fuori così Come se fossero patatine Mi serve un bersaglio Ma, però, non l'ho visto il boss Non è che magari non c'è Non è che alcuni sono random Non ci sono Magari gira Eh, ma, secondo me vanno fatti Sennò non puoi andare Questo l'ho fatto dopo Vediamo se qua Ma, infatti, non c'è un cazzo qua Ci dovrebbe essere Ma, vedi che non c'è ancora Allora, abbiamo sbagliato Eh, sì Infatti, è vuoto Tutto vuoto Forse, forse dobbiamo fare il 10 Vedi che c'è un wave Spunto Andate F So, fare 10 10 ondate Poi veniva Ah, cazzo Siamo andati avanti a noi Le abbiamo evitate senza volerlo Io ho visto attraverso la grata questa qua Ho visto della gente all'altro lato Un po' Un troppo grande Dobbiamo andare dall'altra parte E fare il pareco di gente Qua sono tornati gli schifi Eccola, eccola qua C'è il ragnone Eccoli, occhio, occhio ai ragazzi Allora, che dobbiamo prendere Ragno, ragno Aspetta, aspetta Fammi mettere uno Quattate il gagno Il ragno Ah, che ha bloccato il ragno Aspetta No, ma era bloccato il ragno Non era bloccato, era software Spon Chi attacca il tesco Abbiamo perso un cazzino di tempo, però Vai, negromante Negromante, vai Negromano Mario Montenegro Ok Ok, 5 Dov'è? Ho sentito sì, gioca, ma non lo vedo La post è qua, estros Qua non c'è C'è, guardare sulla mappa è dalla parte opposta Eccolo, eccolo, è qua, è qua, sta arrivando dall'altra parte Giappo Ah, queste poste Che cazzo mette questo, vai Ehi, cosa puttolente Classico E' arrivata una frustata No, ma ti ero girata Ahia, mi ha stupito, bastardo E mi lancio al gancio Oh, sono spinnato per 4 secondi Vai, 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 vai Ancora 4 secondi Ancora 4 secondi Dai, dai, dai Dai, dai, dai Sei morto? Sei morto, però Vabbè, dai Dai, dai No, non lo spero io Non sono in fin combat È davanti la ondata Oh, c'è, sono due di ganni stavolta Trappola, trappola, trappola Non attaccate quello bloccato Non ho capito se hai bloccato il ganni Ok, allora mi ha chiesto No, io mi ha chiesto l'altro E vai, il legamento ha portato qua Vai, vai, vai Vai, dai, tu, eh Stranco Sette ondate Andate, tornare indietro e farle alte Mi serve un bersaglio Perché poi te rivela Ok, che roba Doveve, farà un'altra indietro Ne mancano tre di ondate E abbiamo otto minuti Eccolo là, sì, sono là Adesso c'è un C'è un coso puzzolente Questo tipo qua c'è dei guardiaspalla viola Dei guardiaspalla, che cazzo detto, vabbè Guardi a schialla Guardi a schialla Scusa, cos'è successo? Sono grossi questi Mi son distriato per prendere una caramela Sono morto, cosa è successo? Non riesco a attacchare All'aspetto All'altro è morto Mi sono finto morto E mi sembra inutile E mi sembra inutile E mi sembra inutile Perché arrivo Piedi che si si entra Fabbè, 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 fabbè Fabbè, fabbè Siamo la resa Siamo la resa Siamo la resa Scusami, è vero E' vero Ma ci siamo Non è Non è permettabile Ah, no, è come sei uscito dal suo range È l'area È fuori dalla mia Datemi una mano No, vabbè, ma Ma ragazzi Cosa fai? Cosa fai qua dietro? Cosa c'è uno qua? Ma come sei dietro? Eravamo dietro l'angolo Siete corsi avanti Eh sì, perché è tornato indietro Lui si è resettato Eh, vabbè, devi seguirlo Ma io pensavo che voi avate Venivate con noi Ma poi ha messo la pietra lì E' fuori dalla mia portata È vero Ho finito le pietre Cioè, questa è già la prima cosa La pietra lì Ok E voi avvicinati Ah, no, c'è ragione Ci sono anche i Gauss Sedi, ci sono tutti gli altri Gauss Sono tutti lì No, no, un del 6 Eh, no, io non li avevo visti Allora, io cerco Il cateno è quello Il più avanti, ok? Io provo quello di dietro Manca Dai, prendi l'abominio Eh, quello del portare qua Ah, l'ho fatto, l'ho fatto Se tu Vendilo Se riuscite, segnate un altro Di quelli elite A vero e tardi E provate se lo tieni in termania Luna Ok Allora, in cateno con l'azzurro Di quando si libera Sei liberato Sì, sì, sì Ok Sì, però anche loro Non è che sono molto chiari Su dove ti arriva l'ondata Devi stare qua A girare con l'ondata Guarda, è là sotto Devi andare avanti indietro Qua sotto quel tunnel Guarda, da questa parte Ok, devi andare avanti indietro Però c'hai anche il tempo Cioè, dimmi perlmeno Devi andare avanti indietro di qua Di là Ok, è di qua Sì, sì, qua Dove sei disfatti Arrivano questi Attenzione, vai Sono arrivati i due morti Di finca, aspetta Cosa facciamo? Cazzo, ma È poco Sembra che si può continuare Ah Non ho capito Dove era allora il tempo Forse il tempo era per È un bonus Per avere un bonus Sì Allora, io fermo Che ti resti, vai Che ti resti Ah, in quanto arrivo Ah, evo che gli scherpi sto bastando Mi serve un bersaglio Sì, qua Allora, c'è un Stiamo indietro, eh Aspetta, stai indietro un attimo C'è un tritakai Un Un ragno E un gaul Allora, il ragno lo bloccate? Non lo so, ho fatto qualcosa Sì, bloccato il ragno Ok, bloccato il ragno Tira Mi ho fatto più carne Blocca il gaul, lo getti? Sì Eh, guarda che C'è, interrompo il negro mar Sì, sì, sì Perché fa un danno devastante Adesso, vabbè, l'ho già interrotto No Sono tutti qua da me? Sì Vieni qua che faccio Alltando E poi to io Mi sacrifico ma te le porto io No, non ti dimentico E l'ho portato ieri ho portato Sì, però è morto No, mi hanno ucciso Che è successo? No, non si può fare così Il disordinato Ma fatti in ordine sta roba Eh, ma non riusciamo Ma anche noi non ci stiamo provando E non ci riusciamo a tenerli Ciao Dai, forza Allora Prisma Ok Io prendo il tipo Ok Dai Andateci lì Vai Ok, adesso vieni qua Arriva Mettilo in F.I. Aspetta, aspetta, aspetta Dov'è? Eccolo là Non ho un desserto Prendo il tipo ghiacciato intanto Ma muoio però io Dove ti tirare i coestri Muoio 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 Mi serve un desserto E poi Che succede? Danno ad area Però se io No, si danno ad area No, io si danno ad area Ok, il negromaggio Negromaggio Ok, vai Arrivi tardi, campione di Lord Tyrone Con che voce Via, via Adesso allontaniamoci Questo è il boss Lascelo lì Ti recupero No, lo metta al centro della piazza Ok Sì, sì Vai Comincia il divertimento Questo non si può bloccare Questa è la madonna Ma che è sta roba? Mi ha fatto diventare un scheletro Ti vedo Sì, i boss obiettivamente sono un po' tanque spank Sono più difficili a ondargene Sì, esatto Sì, è morto E' fuori da ogni portata Non ho un bersaudo Sì, incontriamoci a municidio Mi serve un bersaglio No, di qua due Eccolo qua, chi parla? Dai io Seguitemi, conosco un passaggio Conosci un passaggio Potevamo mettere le voci anche degli altri, che cavolo parla solo uno Eh Un risparmio Sì, sono contento di avervi raggiunto prima della vestilenza Cos'è questa stregoneria? Ah Aiuto Attacchiamolo Sembra che Malganis abbia qualcosa di più del flagello a sua disposizione Dovremmo affrettarci Altra magia nera, siate pronti a tutto E se non gli stessimo romano E se non gli stessimo romano Eh? Ti odio Odio combattere la gomma Aia Dai che cavolo Perché non mi targetta quello giusto, cavolo Prendili Tandai clap Prendili Prendili, fa qualcosa Prendili E' fuori dalla mia patata E' fuori dalla mia patata E' a me non li fanno Ma cosa sta succedendo che non gli sto neanche da affrontare? Ma perché siete scesi giù? Perché siete scesi voi due? Siete scesi, non mi siamo riusciti a curare, siete morti, alla fine siamo morti anche noi Ma io ne avevo uno che mi stava seguendo e avevo un briciolo di energia Eh ma, eh no, e poi dai giù Io non mi sono riuscita a curarvi No, e poi tallo da masoccolo Mi stanno trovolgendo Aiutatemi E se muoia, aiutat Muoi Maledetto 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 Niente E' nato e' morto a Sardegna E' nato e' morto a Sardegna Abbiamo un po' andare avanti Ho venuto un solo E' scherzo Ok qua c'è lui Cioè c'è da dire che droppano bene Eh Prima ho un bersaglio Eh Questa si che è andata bene Ah aspetta, cos'è che ci ha dato? Non servono niente Eh, i cuori Ma se mi metto dall'altro lato scusate Oh, oh Quindi farvi Io mi metto qua sopra, voi non andate giù Oh, io son dietro il barile Eh no, sedete o non ti cura No Andiamo in Odin eh teschio Andiamo in Odin eh teschio Che si fa male questi Aspettate che devo recuperare Eh eh Perchè male Muoviamoci Eh, aspetta zio Eh, aspetta zio Aspetta zio Ma fermati Vai Guardatevi le spalle Ci hanno circondati Un po' dietro Un po' dietro Guarda Stassi sono davanti e dietro Prendo quello dietro Teschio 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 Le mettono in fear Eh no ma dovete coprire anche quelli dietro Eh, prendili Riesci a prenderli tutti Uno l'ho messo in fear Andiamo sul teschio ma tu prendetei tutti Ce n'è uno che è Aspa eh Dio L'ho visto L'ho portato qua nel morato Che è quello che casta vai vai Stottato Vivo Adesso l'ha messo il boss Ancora quattro La metti il testi vada Ne metto un altro In fear ancora No cavolo L'ho messo in fear Sì Io Non li ho tirato Ah merda Staccate il teschio No che l'ha tirato Lascia perdere il fear No va bene No E' fuori dalla mia portata E cavolo E' cavolo E' cavolo Quadrato Adesso c'è il boss Cazzo sto prendere tutte le roba di Destino e pietra Eh aspetta No ho sbagliato Sei impadronita della tua La morte che sei destinato a infliggere ad altri Oggi sarà tua Ti do questa Faccio quello che devo per Lordaeron Ne parole ne azioni potranno fermare Ho dato la pietra anche Ok Ok Vai Dove ne cringe Il principe Mito cringe Storbiti Mi ha rallentato Sbattolo Si mi ha rallentato Storbiti Oh, dei guantini Oh, gli stivaletti Dei guantini che sembrano i guanti di un mimo Però vabbè La via più rapida per raggiungere Malganis è dietro quello scaffale E vorrà solo un momento Spondiamo lo scaffale Bene, questo passaggio segreto funziona ancora Bella, bella Comunque mi sta piacendo tantissimo C'è tanta trama, c'è anche tanta trama Mi piace a me Sì, potremmo anche non farlo se doppiare Ci siete? Adesso c'è tutto da fare Tutto il corridoio Siamo dall'altra parte dietro Dovemmo fare tutto il viale Fino ad arrivare a Malganis Bisogna andare un po' giù Perché quello va avanti Attenzione che ci sono dei goal Sì Sì, se Arthas può non tornare indietro come classico Come classica cosa del Di quando devi accompagnare un personaggio che torna poi indietro Fa avanti e indietro Dai, cazzo, continua da dove stavi Segnate quelli là, qui devo ti bloccare Occhio, raga Eh, faccio fatica qui Dai, io blocco il ragno Il ragno lo uccidiamo No, 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 blocco, lo blocco Sì, va Arthas Anica, sia il ragno che la bonilio Io scelgo da bloccare ne uno Bloccate la bonilio Prendi la bonilio, la bonilio, prendiamolo Non so se posso bloccarlo No, Arthas, dove vai? Arthas È Arthas che devo tornare Arthas Eh, però bisogna andar là Sennò ci muove Allora, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, poi Sì, ma così mi muore Fabri No, qui, qui la vedo male Dai, che ce l'ho fatta Vai, ce l'ho fatta, vai Quel cazzone Che faccio di che? Se c'è di morire Disperatamente Proteggiti Ah, cazzo Mi è andato avanti, porca mio Può essere Sai cos'è? Che secondo me L'accusa È morto Il ragno, il ragno Aia Colpa di quel minchione Che è andato avanti Dove cazzo è andato? Eh, ma perché l'avete preso così Secondo me L'ha confuso Sì, sì, sì Lui è passato sotto Quando l'ho trascinato E Cazzo, la giallo Sì, ma sto corridoio è impegnativo Mi ricordo che è Non banale Promi Eh, ma porta pure sfiga È un ciao, una rivederci Se però poteva riportarci all'ultimo boss Che palle Mi serve un bersaglio Sì, ma se sto qua Ma date una calmata È più facile Ma è fatta su Eliro i genti Esatto Per me gli zombie li hanno fatti apposta Sì, perché non riesce a tabbare Esatto Io tengo Dai Dategli dietro Bisogna anche Esco il gol Tuttiamo un po' più verso l'Iluge Sennò Quanto meno si avvicina a darci una mano No, TG Prova in capenare Prova in capenare Cignore alla grande Io ho poi dato 4 gole Così magari Ok, sul culone Prendiamo E poi bisogna fare Esatto Culone Dai Ah, è tazzo No, dove è andato? Dove è andato? Catti rincoglionito Eh, l'ha capito adesso Io lo porto vicino Così tu cazzo Mi serve un bersaglio Blocatelo Sono ammazzato E vai a cagare Io ho capito, eh Adesso all'attacco Io blocco il ragno Io che scatta Noi a cagare Ma il ganes ci attende Ma quanta gente C'è lì Questa città sarà purificata Dai, io blocco il ragno Voi f***ate gli altri Insomma Ho poi toccato qualcosa Mi serve un bersaglio Prima che arriva anche la bambina Prendiamo il ragno Prima che arriva la bambina Eh, non posso te a scenarlo Vieni qua, Fabio Prima che arriva la bambina Eh, l'ho Che cazzo l'ho È fuori dalla mia portata Eh, ho preso Prendi un ragno Gli dobbacca Vai Fate il ragno Fate il ragno Ho visto passare una teap Eh, andiamo avanti Qua sono tutti normali C'è un gol C'è un gol là, vai Lo chiappo Io l'ho schivato Aspetta che si trovi in dici con il tartas Sì Rimane spaisato Adesso qua ci ci possiamo Aspettate che lo vedo confuso Ah, cazzo aspetta No, non si che foda Tipo camicazze Adesso c'è Malganis quindi Siamo pronti Siamo pronti Siamo pronti Le avete le pietre Ah, no, io no Eh, ma ormai me la avete Olio che qua si chiude magari No Ecco Non lo attacca subito Aspetta, aspetta Magari si ferma Ok Piazza le pietre Dai Ok Piazziamo Che botta Cominazione mentale Attenzione Minchia che botta Questo è forte Eh beh, sì Come è giusto che sia E state lontano Fa quella Non fa la mossa delle zampate Come i nigos Poi lancia Di distelli Minchia ma è totto di tutto Aiutateli Aiutateli Sette secche Un di dietro Un gelato Un gelato Vabbè che ero addormentato È fuori dalla mia portata No, Dio Sette secondi Che palle Niente Mi addormento Un 2x3 È troppo lontano Ah, non mi ha fatto Mi riesco curare È andato, dai È andato Sì È andato E versare Il viaggio è solo all'inizio Giovane principe Raccogli le tue forze E vieni nella terra gelata Di Nordania È lì Che regoleremo i conti Tra di noi È lì Che si realizzerà Il tuo vero destino Darò la caccia fino ai confini Della terra Se sarà necessario Mi hai sentito Ai confini Della terra Avete combattuto bene Tutto quello che Malcani S'ha lasciato indietro È vostro Prendetelo Ora devo cominciare A preparare La spedizione Il cofano Ah, sono oro Che sfiga Uh, io sì Una cosa Il coprispalle Viola Ma io sono oro Oh, bello questo Pendente Sì Già che anche i coprispalle Sono belli Buono, Fabio Eh, esteticamente Sono più belle Metto queste È arrivata che omi Sì Non glitchare così però Ok Allora, ok Oh, vabbè Almeno i guanti Che mi dà Chromi Sì ma che io non metto Perché ho preso già Quelli viola Ma scusa, eh Cos'è il corruttore Dell'infinito sconfitto Ah, obiettivi bonus Non è che è quello Che abbiamo Non è che nei 25 minuti Esatto Può essere Eh, scusarsi Sì È stata faticosa Stasera Ah, però mi sono divertito Sì, anche a me Mi è piaciuta